Avendo visto il programma Le Iene e conoscendo un pochino i tuoi personaggi, ti senti più un giornalista d'assalto o un giornalista comico-satirico? Mi sento più un giornalista, mi sento più un racconto a storie. Bisogna sempre trovare il punto focale per raccontare una storia, cerchi sempre di stare un passo indietro perché puoi raccontare la tragedia, puoi raccontare qualsiasi cosa, basta che hai un passo un po' arretrato perché così non perdi la lucidità e non entri tecnicamente e infatti da volte i rapporti con dei personaggi molti mi dicono perché non gli hai spaccato la faccia, ecco, no perché è sbagliato, bisogna avere la razionalità e la lucidità mentale e la velocità mentale per rispondere ad un nuovo personaggio. Grazie! 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 Grazie!